La firma davanti all'assessore alle attività produttive della regione Giovanni Lolli e al sindaco di Penne Rocco D'Alfonso è arrivata attorno alla mezzanotte, dopo essere stati ad un passo dalla rottura della trattativa tra sindacati e proprietà francese. Nessuno sarà licenziato per volontà dell'Abrioni, che solo un mese fa aveva minacciato 402 esuberi. I 139 lavoratori che dovranno lasciare lo stabilimento di Penne lo faranno con la cosiddetta mobilità volontaria, cioè usufruendo di un incentivo che potrà raggiungere un massimo di 32.000 euro. Chi resterà al lavoro nello stabilimento che produce i capi maschili d'alta moda lo farà con orario ridotto a 32 ore settimanali, il che significa una consistente riduzione del salario. Un sacrificio tutto sommato e, viste le premesse, sopportabile, compensato da una tantum che l'azienda concederà ai lavoratori in una misura ancora da definire. Come ancora da definire, presso il Mise, a Roma, sono gli ammortizzatori sociali a sostegno dei lavoratori. Nei tre stabilimenti Brioni dell'area Vestina sono in totale 1260 gli addetti, fabbriche che hanno già subito una ristrutturazione del personale nel 2009, costata circa 300 posti. Lunedì, intanto, l'accordo trovato dopo giorni estenuanti di trattative dovrà passare il vaglio dell'Assemblea plenaria dei lavoratori.